Perché sono salito quassù? Chi indovina? Per sentirsi alto. No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! E' proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare. Ecco, quando leggete non considerate soltanto l'autore, considerate quello che voi pensate. Figlioli, dovete combattere per trovare la vostra voce. Più tardi cominciate a farlo, più grosso è il rischio di non trovarla affatto. Trudice, molti uomini hanno vita di quieta disperazione. Non vi rassegnate a questo. Ribellatevi! Non affogatevi nella pigrizia mentale. Guardatevi intorno. Ecco così, bravo Frischi, grazie, sì! Osate cambiare e cercate nuove strade!